Movie Talk sbarca a Bologna, l'ospite di questa sera è Vincenzo Schettini alias la fisica che ci piace e il film è Oppenheimer, sta già andando benissimo in tutto il mondo, allora la fisica e la scienza può essere anche pop. Allora intanto lasciami dire Giorgio che io sono emozionatissimo di essere qua stasera e di assistere attraverso un film, tra l'altro Christopher Nolan, ad un pezzo della fisica del secolo scorso importantissimo, anche un pezzo di storia importante, la fisica certo può essere pop, deve essere pop e se raccontata attraverso un film è assolutamente pop. E noi entriamo in sala. Un film del genere, l'approfondimento scientifico è stato sicuramente quello che è stata la miglior scelta, ecco. E sicuramente la presenza di Vincenzo ha reso il tutto un evento unico e speciale. Riesce in qualche modo a coinvolgere e a spiegarla in modo molto semplice. L'accoppiata fisica che ci piace con il film penso sia stata davvero incredibile. È stata speciale da ogni punto di vista. Tutto molto bello. Bella iniziativa da parte del The Space comunque, mi piace tanto. Da continuare.